Buonasera a tutti, benvenuti al webinar sulle sordità improvvisa. Io sono il dottor Santarella, un medico recente per il valido di Ravenna e svolgerò questo webinar con una prima parte dove ci sarà la mia relazione e una seconda parte aperta alle vostre domande. La sordità improvvisa è una patologia che condisce circa 8-15 persone ogni 100.000 abitanti e è considerata un'emergenza otologica. Nel 2014 presso il centro iperbarico di Ravenna sono giunti a noi, inviati da medici otorini, circa 130 pazienti affetti da questa patologia e sono stati trattati con terapia ipermarica. Di questi 82, il 63%, sono stati dimessi con un quadro migliorato. Il 30 invece di questi pazienti sono stati dimessi con stato stazionario. Abbiamo qui un esempio di una donna trattata per il nostro centro, donna di 42 anni che aveva un'amnesi negativa che in data 19-2015 accusa una grave perdita di udito a sinistra, come possiamo vedere dall'audiogramma a sinistra, con una perdita pantonale dell'orecchio sinistro e successivamente, il giorno successivo, inizia l'otta terapia iperbarica per un totale di 26 sedute che termina in data 11 ed esegue in data 12 ottobre un nuovo audiometrico dove si nota un grande miglioramento dell'orecchio colpito, soprattutto nelle frequenze da 125 ai 2000 Hz che sono proprio quelle frequenze dove la terapia iperbarica dà il meglio di sé. Per quanto riguarda le frequenze invece più alte, il recupero è parziale. Che cos'è l'ipocosione improvvisa? È definita come una perdita uditiva non inferiore a 30 dB in almeno tre frequenze audiometriche contigue. Si instaura in meno di 72 ore, è prevalentemente monolaterale e può presentare o no acufeni. L'estilologia è molto complessa in quanto solo il 10-15% dei pazienti affetti di questa patologia è una causa identificabile. Fra queste abbiamo degli eventi traumatici, delle cause infettive sia di origine batterica che di origine virale, disordini ematologici e malattie vascolari, farmaci ototossici, malattie e disturbi neurologici come la sclerosi multipla, malattie autoimmuni e infiammatorie, disturbi dell'orecchio interno come ad esempio la sindrome di Meniere, il neurinoma del nervo acustico, la predisposizione genetica, noi infatti abbiamo notato nella letteratura una sempre maggiore attenzione verso polimorfismi che possono favorire lo sviluppo di questa patologia e altre cause che sono in via di definizione. Le terapie riguardano l'uso di cortisonici, sia orali che endovenosi che intratimpanici, la terapia ad ossigeno iperbarico e poi un insieme di miscellanea con reologici, vitamine, farmaci antivirali, elettrostimolazione, terapie sperimentali. Cosa dice la letteratura? Dibatti di rincorso sull'uso dei cortisonici. Una metanalisi recentissima non supporta l'uso degli steroidi rispetto al placebo. Sono da considerare come trattamento di salvataggio. Uso, un contraddittorio, viene dichiarato da un'altra metanalisi dell'ArtoCrain, mentre un comunque recente articolo dice che gli steroidi intratimpanici hanno un'equivalenza terapeutica con quegli orari e la terapia combinata è superiore ai due farmaci. Una metanalisi sempre del 2015 afferma che i corticosteroidi intratimpanici potrebbero avere un apporto efficace. Un ultimo studio che riportiamo, recentissimo, afferma che gli steroidi intratimpanici associati all'OTI danno risultati migliori rispetto agli steroidi V associati alla terapia di ossigeno e prevario. Però questi risultati clinici richiedono un ulteriore conferma. Ci sono altre terapie aduvanti? Esattamente sì. È stato provato il fattore insulina growth factor numero 1, il cui uso topico ha dato dei buoni risultati. Non c'è ancora una prova certa per sostenere l'uso di farmaci antivirali e vasodilatatori. Mentre buoni risultati ha dato l'uso di vitamina A insieme alla C, alla E e al selenio, insieme a terapie convenzionali, quando il deficit era in febbraio a 46 decibel. Anche la Frems, che è un tipo di elettrostimolazione, è in studio presso il nostro centro e ci aspettiamo dei buoni risultati. La terapia iberbarica interviene a livello delle cellule endoteliali, più particolarmente nei loro mitocontri, dove migliora il potenziale energetico della cellula e, attraverso lo sviluppo di monossido d'azoto, ne migliora la capacità antinfiammatoria e ha un'azione antiademigena sulla itrope dell'endorifa. Ulteriormente ha un'attivazione sui fattori che nescono nella mobilitazione delle cellule staminali. Le nuove linee guida SIMSI, appena uscite, affermano che la terapia iberbarica deve essere iniziata tempestivamente, entro due settimane dall'esodio, se possibile, comunque in un tempo non superiore ai 30 giorni. Deve essere attuata in presenza di perdite uditive gravi e il miglioramento è infatti, se osservato, essere maggiore nei pazienti con perdite anche fino a maggiori, uguali a 80 decibel. La letteratura, c'è una review dell'Arco Crane che afferma che la terapia iberbarica migliora di circa 16 decibel nei soggetti trattati rispetto ai controlli con una significatività statistica. Allo stesso modo dimostra che trattando 5 pazienti che hanno già provato tutte le terapie tradizionali con terapia iberbarica, uno di questi avrà un miglioramento del 25% dell'audiometria. Questo è un dato molto importante perché noi sappiamo che se la differenza fra l'orecchio sano e l'orecchio affetto dalla patologia è maggiore di 30 decibel, questo darà una pessima qualità della vita al paziente e quindi cercare di riportare entro il 30 decibel deficit fra i due orecchi permette al nostro cervello di compensare e migliorare veramente la qualità della vita soggettiva del paziente. Questa review comunque conclude che rimane ancora da chiarire il significato clinico della terapia iberbarica per la mancanza di studi veramente grandi e veramente ben condotti. La dose della terapia iberbarica viene svolta come vedete in camere iberbariche multiple, ha una pressione che si aggira fra i 2,2 e 2,5 ATA per la durata di almeno 60 minuti durante i quali si assorbe ossigeno al 100% per una durata da 10 a 15 trattamenti. Come potete vedere presso il nostro centro si viene visualizzata paziente per paziente la saturazione di ossigeno in maschera in modo che si abbia la certezza sulla bontà del trattamento. Visto l'argomento molto dibattuto e che ha lasciato tante domande aperte vi invito alla prossima riunione di primavera dell'Otosup che si svolgerà a Brindisi sulla nave San Marco famosa per il grande impegno umanitario e passo alle domande e risposte. C'è arrivata una domanda da parte della signorina Silvia di 28 anni che ci riferisce che le è stata diagnosticata un'improvvisa sordità all'orecchio sinistro. Racconta che ho cominciato ad accusare un forte fischio nell'orecchio sinistro seguito successivamente da un ultimo bronzio. Sono stato al contosoccorso dove mi è stato prescritto del Vertiser che il giorno successivo sono andato da un motorino che mi ha appunto fatto la diagnosi di sordità improvvisa e mi ha messo in terapia con del cortisone. Oggi sono 15 giorni da cui ho iniziato questa terapia però non ho avuto nessun miglioramento. sono in attesa di fare l'esame vestibolare e la risonanza magnetica. Vorrei sapere se sono delle terapie più efficaci o che possono aiutarmi. Ho letto della terapia iperbarica. È davvero così efficace? Beh, cara Silvia, tanto grazie per la domanda. La terapia iperbarica, come abbiamo potuto sentire dalla mia relazione, è di grande aiuto e può migliorare effettivamente sia la oggettività dell'audiometria, come abbiamo visto, ma soprattutto la soggettività persona per persona in modo che si possa vivere con una qualità della vita migliore. L'efficacia, come abbiamo visto, come dice la letteratura, è circa del 60%, però, come dicono le nuove linee guida della Simpsi, è importante farla il più rapidamente possibile e almeno entro 30 giorni. Quindi sì, ti consiglio di rivolgerti a un centro iperbarico della tua zona di fiducia e in relazione con il tuo otorino imbiante associare le terapie che già stai facendo alla terapia iperbarica. Mi arriva un'altra domanda da parte di Paola, che è un caso molto importante perché parla di sua figlia. Una ragazzina di 10 anni ha un'ipacusia neurosensoriale improvvisa monolaterale di grado medio, con deficit, pari a circa il 60%, pantonale. È in terapia cortisonica e endovenosa e ha iniziato un ciclo di camere perbarica. Al controllo della quinta seduta praticamente i livelli sono migliorati in maniera impercettibile. Però soggettivamente la bambina mi chiede, ci riferisce che al telefono, riesce a sentire il telefono ma che prima non riusciva. È opportuno continuare la terapia? Beh Paola, intanto ti faccio gli auguri per la tua piccolina, da babbo di una bimba. E ti dico che in questi casi, nei bambini, di solito l'estitologia della ipacusia è di origine virale. Però è a favore della buona evoluzione il fatto della bassa età e assenza di fattori di compromissione. Quindi ti consiglio di continuare tutto il ciclo delle terapie perché è stato osservato dalla letteratura che per quanto in diminuzione i miglioramenti ci possono essere fino al termine delle 10-15 sedute di terapia perbarica e quindi assolutamente ti consiglio di continuare verso l'uso della terapia perbarica e continuare il ciclo, non interrompere. Un'altra domanda ci viene da Angelica che parla di suo padre che durante la notte ha sentito un forte simbilo all'orecchio sinistro. Da quel momento in poi ha perso improvvisamente l'udito. Visitata da Montorino il giorno successivo, l'esame audiometrica ha prospettato una lesione del nervo acustico e ha iniziato subito a fare della terapia e programma una risonanza magnetica per cercare di capire delle cause alla base e le voglio chiedere se esistono delle terapie potenzialmente più efficaci come la terapia perbarica. Bene, car Angelica, tuo padre immagino che sei una persona di una certa età e questo tipo di patologia come dico ha una fase di età dalla media ai giovani. Il fatto che non abbia avuto remissione con la terapia tradizionale non vuol dire che associando terapia perbarica si possa avere un miglioramento. È bene comunque affidarsi al medicio Torino per quanto riguarda una diagnosi e nella ricerca delle cause che possono avere portato a questa patologia e allo stesso tempo valutare attraverso il medico la normale diagnostica svuota da Torino di svolgere una visita da un medico iperbarico e per iniziare il più rapidamente possibile, non dimentichiamo, l'efficacia della terapia iperbarica si manifesta entro i 30 giorni. Difficilmente si avranno dei risultati a un tempo più lungo. Bisogna assolutamente ricordare che i nuovi studi hanno messo in evidenza che ci possono essere dei fattori di compromissione che possono causare questa patologia come l'ipertensione, come l'ipercolesterolemia. Quindi è bene considerare il paziente a 360 gradi. Per quanto riguarda, per chiudere, direi che molto importante, c'è appena uscito un articolo su Parmed che afferma che il miglioramento dell'oggettivo dell'audiometria non sempre porta al miglioramento soggettivo del paziente. È una patologia, è un'emergenza. La qualità della vita del paziente affetto da ipocosia può essere veramente difficile. Quindi rimando a tutte le persone coinvolte nel management di questi pazienti di seguire le nuove guida della Simpsi per un maggior successo. Bene, vi ringrazio per la partecipazione. Arrivederci.